Ciao a tutti, benvenuti a questa seconda giornata del Festival di Iconografie, qui a Mare Culturale Urbano. Inauguriamo i lavori, tra virgolette, di questa giornata parlando di Asia e in particolare parleremo di Cina soprattutto. Lo facciamo con Simone Piranni, giornalista, fondatore di China Files, ha scritto per molti anni per il manifesto, adesso lavora per Core Media, ha pubblicato diversi libri sulla Cina, l'ultimo dei quali è La Cina Nuova, uscito per la terza l'anno scorso, e ha di recente lanciato una newsletter che si chiama Il Partito, che segue le vicissitudini della politica interna cinese in vista del congresso, fino al congresso, subito, vuoi smettere presto di fare, fino al congresso che sarà a metà ottobre, giusto? Invece qui alla mia destra c'è Guido Alberto Casanova, ricercatore associato per l'ISPI, si occupa di Cina, ma non soltanto, anche di Giappone e Corea del Sud, anche lui collabora con diverse testate online e cartacee. Alla mia estrema destra, non politicamente, Lucrezia Goldin, autrice per China Files, di cui tra l'altro al banchetto, all'ingresso, abbiamo le copie dell'ultimo numero, quindi se poi vi interessa passate a sfogliarle, a comprarle. Anche lei, insomma, è esperta di Cina e di Asia e collaboratrice per diverse testate, tra cui anche lei il manifesto. Come sapete, allora, il tema generale del festival di quest'anno di iconografie è la soglia, quindi per farla molto semplice, l'idea che stiamo vivendo un passaggio tra due epoche e negli incontri di questi tre giorni proviamo a ragionare su quali potrebbero essere le caratteristiche dell'epoca nuova in cui stiamo entrando o siamo già entrati, a seconda dei punti di vista. Una delle chiavi di lettura possibili è che, oltre la soglia, ci sia il secolo asiatico. L'abbiamo messo con un punto di domanda, perché chiaramente non è una prospettiva certa e non è neanche certo che cosa sia poi questo secolo asiatico e come lo possiamo definire. Per farla molto brutale, l'idea, alla base di questa teoria, di questa previsione dell'arrivo di un secolo asiatico, è che sia in fase di declino, di tramonto, l'egemonia occidentale a attrazione statunitense a favore di un'egemonia invece asiatica a attrazione cinese. Ovviamente le cose non sono così semplici, anche perché fino adesso, in realtà, è la stessa Cina che sembra aver rifiutato il ruolo di nazione guida di un ordine internazionale alternativo a quello statunitense. La Cina non si comporta come si comportava, ad esempio, l'Unione Sovietica finché esisteva, ma al contrario sembra aver seguito una strategia di crescita economica, di ascesa economica quasi nascosta, senza turbare l'ordine internazionale. Nel frattempo però sono intervenuti anche due eventi storici macroscopici, la pandemia da un lato, che ha portato dei problemi sia di natura economica, con un rallentamento della crescita economica, sia di stabilità interna, e dall'altro la guerra in Ucraina, che ha messo la Cina in una posizione un po' imbarazzante. Probabilmente parleremo più nel dettaglio nel corso dell'incontro. Partirei con una domanda, comincio magari con un giro di opinioni da Simone, poi Guido, poi Lucrezia, per chiedervi se secondo voi effettivamente la Cina si trova davanti a questa scelta, quindi quella di una sorta di bivio, continuare con la strategia seguita finora, di crescita economica senza pestare i piedi troppo a nessuno, ma coltivando soprattutto i propri interessi nazionali, oppure assumere effettivamente il ruolo di guida di un ordine internazionale alternativo a quello occidentale statunitense, a costo di entrare in conflitto aperto con l'Occidente, tra virgolette. Simone, vuoi? Hai il microfono qua? Vai. Eccomi. Ciao a tutti, buongiorno intanto, grazie di essere qui, grazie a Iconografie per l'invito e a te per l'introduzione. Ma allora è una domanda che non è proprio semplicissima, nel senso che sapere quello che ha in mente il Partito Comunista cinese non è proprio la cosa più semplice di tutte. C'è anche da chiedersi quali elementi di continuità o di discontinuità ci siano negli ultimi dieci anni di guida cinese da parte di Xi Jinping, perché è vero che abbiamo avuto tutta una serie di momenti durante i quali la Cina ha dimostrato una postura molto diversa rispetto al passato, pensiamo solo alla nuova Via della Seta, che è un progetto che definiamo sempre mastodontico, bisogna sempre dirlo, di infrastrutture, ma non solo. È chiaro che la Cina ha una storia anche a livello imperiale molto sinocentrica, cioè tutto sommato è un impero che si è dovuto mettere per forza di cose un vestito da Stato-Nazione nel quale però sta molto stretto, tant'è vero che a livello di riflessione interna degli intellettuali che sono oggettivamente embedded nel contesto cinese, è ritornata molto questa idea del TNCA, cioè di una, come dire, influenza, di un sistema di influenza in realtà cinese come era in epoca imperiale, no? Cioè tutto quanto sta sotto il cielo con questa definizione che però non è mai diventata uno Zhu Yi, come dicono in Cina, cioè non è mai diventata un'ideologia, possiamo dire, quindi rimane comunque una prospettiva di una Cina al centro con cerchi concentrici e una influenza che è più forte nei paesi più vicini e poi via via diciamo sfuma in quelli più lontani. In questo senso la Cina sicuramente si è sempre proposta anche magari nei momenti più di difficoltà, parliamo della Repubblica Popolare Cinese, quindi da 49 a oggi, come una potenza comunque regionale, no? Cioè asiatica, dove come impero si muoveva con il sistema dei tributi, cioè ci sono queste lettere che gli imperatori mandavano in giro ai governanti degli altri paesi dicendo, no? Forse non te l'hanno detto, comunque io sono il figlio del cielo e devi, come dire, tributarmi in quanto civiltà superiore. Questo è stato sempre un po' l'atteggiamento della Cina che non a caso chiamava chi viveva fuori dai suoi confini barbari. Quindi questo atteggiamento è quello che, diciamo, storicamente ha avuto. Chiaramente con la nascita della Repubblica Popolare Cinese i problemi sono stati altri immediatamente, soprattutto di natura interna. C'era da, come dire, far crescere un paese che dopo quello che i cinesi chiamano il secolo delle umiliazioni, cioè le occupazioni straniere con la guerra dell'oppio, dovute alla guerra dell'oppio, poi l'occupazione giapponese, la seconda guerra mondiale, la guerra con i nazionalisti, era un paese che nel 1949 era uno tra i più poveri al mondo, dove l'aspettativa di vita non arrivava ai 30 anni, il 90% della popolazione era analfabeta. A quel punto, durante il maoismo, la proposizione internazionale della Cina era quella dei cosiddetti paesi non allineati, possiamo dire la conferenza di Bandung, cioè mettersi alla guida dei paesi in via di sviluppo. Una prospettiva che in realtà poi non ha avuto grande seguito a livello internazionale. Dopodiché, con l'apertura delle relazioni con gli Stati Uniti negli anni 70, con ancora ma in vita, ma che poi diventerà una costante della crescita cinese quando arriva Deng Xiaoping dopo la morte di Mao e quindi l'apertura delle riforme, la Cina entra in un'altra fase, che è la fase proprio di economicismo spinto, quasi come se morisse per un attimo, diciamo, la politica e diventasse suprema tutto quanto era la questione economica. A quel punto la Cina comincia a fare delle scelte precise, nel senso che il problema principale, ad esempio, di Jiang Zemin, che è quello che prosegue di fatto le riforme di Deng Xiaoping, portandole al suo estremo, con anche liberalizzazioni e tutta una serie di cose che hanno avuto delle... diciamo, viene meno la cosiddetta garanzia della ciotola di riso per i cinesi, quindi non c'è più lo Stato che garantisce il posto fisso nelle aziende statali, la casa e il sistema, il welfare, diciamo, gratuito, viene deregolamentato completamente il mercato del lavoro, cambia faccia di fatto il paese e a quel punto la preoccupazione della dirigenza cinese è come inserire elementi di natura capitalistica all'interno del sistema economico cinese senza che però entrino anche elementi culturali, valoriali, occidentali all'interno della Cina e quindi c'è la necessità che il partito comunista, diciamo, stringa ancora di più le maglie per controllare l'ambito culturale e valoriale all'interno del paese inserendo via via elementi capitalistici. C'è esattamente quello che, secondo i cinesi, non ha fatto l'Unione Sovietica, che non ha fatto Gorbachev, che ha abdicato alla guida, diciamo, politica di una transizione economica facendo sì che terminasse praticamente l'esperienza dell'Unione Sovietica. Quindi poi abbiamo avuto gli anni 2000 che sono stati quelli della crescita a doppia cifra della Cina, relativamente tranquilli da un punto di vista anche della politica internazionale. Il paradosso è che nel 2001, con l'attentata delle torri gemelle, Gian Zemmine è uno dei primi che chiama Bush, diciamo, per dimostrargli l'avvicinanza e abbiamo quel periodo da 2001 a praticamente Obama che corrisponde anche al periodo migliore, forse, delle relazioni tra Cina e Stati Uniti. Poi con Obama gli Stati Uniti quasi, è il momento nel quale gli Stati Uniti comprendono da un lato una loro decadenza progressiva e quindi Obama si muove di conseguenza, tanto che probabilmente paga anche poi con l'elezione di Trump. Cioè, gli americani gli fanno pagare a Obama il fatto di aver ammesso che c'è una decadenza del dominio, diciamo, geostrategico americano e Obama comincia questa strategia di contenimento asiatico proprio della Cina con il cosiddetto pivot to Asia. Va, nel 2008 è l'anno nel quale la Cina percepisce, fondamentalmente con la crisi dei subprime e l'avanzare poi negli anni successivi dei populismi e di tutto quello che sappiamo benissimo, percepisce una debolezza dell'Occidente e quindi ancora prima, in realtà, dell'arrivo di Xi Jinping il Partito Comunista percepisce la possibilità di trovare nuovi spazi a livello internazionale. Xi Jinping di fatto sancisce questo. Quindi abbiamo una Cina molto più propositiva da un punto di vista internazionale, l'abbiamo visto anche in questi giorni a Samarkand, ha praticamente detto in modo molto chiaro a Putin che il centro Asia è, diciamo, un ambito nel quale la Cina vuole recitare un ruolo molto più importante, di fatto lo esercita già ma ha intenzione di aumentare la propria, diciamo, presenza in quei territori, tutto perché la Cina ha un obiettivo principale che è quello di consentire una stabilità internazionale affinché le merci vadano in giro più velocemente possibile e garantire quindi il proprio tornaconto economico. Da un punto di vista invece della governance, diciamo, internazionale, è arrivato la tua domanda e chiudo, io credo che per moltissimo tempo, pur polemizzando con gli Stati Uniti, pur ponendo il problema, no, ad esempio dei diritti umani, dell'universalità di questi diritti, alla Cina tutto sommato andava benissimo che i problemi in giro per il mondo li dovesse risolvere gli Stati Uniti, cioè che il ruolo di poliziotto mondiale li facesse gli Stati Uniti. In quel modo aveva la possibilità, da un lato, di denunciare il doppio standard americano nel momento in cui si comportava in maniera diversa, in contesti diversi, dall'altro non aveva il problema di dover risolvere crisi internazionali che hanno causato notevoli problemi agli Stati Uniti. Ad esempio in Afghanistan, io sono convinto che la Cina sarebbe stato benissimo, in realtà, che gli Stati Uniti avessero continuato a affogare nella palude, senza mai magari davvero affogare, ma tenendo la situazione talmente stabile da un lato politico ma talmente in bilico da un punto di vista di chi poteva intervenire che la Cina avrebbe sicuramente potuto fare i propri interessi, il cui principale, tra l'altro, è controllare la frontiera con lo Xinjiang, che è la sicurezza interna, è comunque una delle priorità della Cina. Quindi il problema è quando si è posto, nel momento in cui Biden, che ha proseguito la politica di contrapposizione molto forte con la Cina da un punto di vista economico, ha cominciato a distinguere tra democrazia e autocrazie. Quello, secondo me, questa è una mia opinione, è un tranello nel quale la Cina non sarebbe dovuta cadere, ma probabilmente neanche la Cina ha provato a non cadere in questo tranello ideologico. La Cina cosa rinfaccia agli Stati Uniti? Rinfaccia è all'Occidente. Rinfaccia il fatto che la Cina ha un modello, con le sue caratteristiche peculiare, che neanche i cinesi sanno bene spiegare alla fine dei conti, ma che ha portato comunque milioni di persone al di sopra della povertà in pochissimi anni, in trent'anni, la Cina ha compiuto dei progressi economici che in quel tempo non si sono mai visti nel corso della nostra storia, e quindi la domanda che la Cina pone all'Occidente è perché ci giudicate sempre, dato che ormai tra l'altro non avete da insegnarci nulla, perché avete un'economia scadente, avete una popolazione scontenta, avete situazioni di guerra civile praticamente. Immaginatevi Xi Jinping quando vede l'assalto a Capitol Hill, proprio c'è bottiglia di spumante, e dice vabbè. Allora, gli Stati Uniti ha provato a irritire, secondo me, la Cina in questo contesto, dal quale probabilmente la Cina si sarebbe anche potuta smarcare, smarcare, ponendo sempre le questioni economiche come quelle prioritarie. L'elemento che ha creato un cortocircuito per la Cina è stata la guerra in Ucraina della Russia, perché a quel punto la Cina come si è posta. Tu prima hai detto una posizione imbarazzante, ovviamente una posizione imbarazzante lo è per la Cina, perché è chiaro che non ha apprezzato la mossa di Putin, ma nello stesso tempo, da un punto di vista ideologico, non può ammollare la Russia, politicamente, perché gli serve per, come dire, contrapporsi all'Occidente, alla Nato, ai doppi standard, in tutte quelle zone del mondo che noi non vediamo più di tanto, di cui ci occupiamo molto poco, quindi Africa, Centro Asia, Medio Oriente, dove invece questa narrazione funziona, un po' per la storia coloniale, un po' perché gli Stati Uniti hanno fatto dei grandi disastri in alcune aree, e quindi ecco che in alcune zone la Cina comincia di recente a porsi come modello da seguire, senza tentare di esportarlo con gli strumenti che come ben conosciamo hanno provato a utilizzare gli Stati Uniti, ma è chiaro che si pone come un modello, cioè un modello nel quale l'economia galoppa e a livello politico c'è una grande stabilità data da un controllo totale, diciamo, dello Stato, che in questo caso coincide con il Partito Comunista. E tutto sommato è un discorso che se ci pensiamo potrebbe funzionare. Oggi soltanto il 20% della popolazione mondiale vive in una situazione che potremmo definire democratica, quindi abbiamo, diciamo, una situazione nella quale quel patto che vige in Cina, cioè più crescita economica e meno diritti, se ve lo chiedessero a voi tra un po' di tempo, sei disposto a rinunciare a alcuni diritti per avere comunque una stabilità economica? Attenzione perché alcuni paesi in Europa, tipo l'Ungheria, la Polonia, sono già fuori, diciamo, dal perimetro di quelle che noi consideriamo democrazie. E quindi è chiaro che diventa un modello molto attrattivo per i paesi in via di sviluppo, il rischio è che diventi anche un modello attrattivo per paesi che invece sono in questo momento in un'altra situazione politica. Ma la crisi economica può provocare esattamente un problema, diciamo, una domanda su quella che è il nostro concetto di libertà. Guido, vuoi aggiungere qualcosa su questo? Grazie e benvenuti a tutti. Grazie a Iconografia per l'invito. Io per capire un attimo dove vuole andare la Cina dal punto di vista internazionale, non mi porrei tanto la domanda se la Cina vuole mantenere l'ordine globale esistente oggi o se lo voglia in qualche modo riformare. La questione secondo me è capire cosa vuole la Cina, che tipo di sistema vuole, non se lo vuole riformare o sovvertire. E per capire questa cosa bisogna siccome andare un po' indietro. Negli ultimi 150 anni per la Cina la questione al centro del dibattito intellettuale era come possiamo diventare una nazione moderna e una nazione potente. E tutta la storia intellettuale della Cina, dalle guerre dell'oppio fino ad oggi, è una storia che prova a rispondere a questa domanda. Come diventare moderni per poter affrontare l'Occidente, prima colonizzatore, poi capitalista, poi rivale di oggi, e diventare potenti per fare valere il nostro punto di vista a livello internazionale. L'impero Qing nel 1800 si è approvato a dare risposte a questa domanda. È stretto però tra il tradizionalismo della corte mancese e i periodi di riforme, aperture che dovevano nei piani di Pechino all'epoca dovevano essere una sorta di riforma alla giapponese. Sappiamo che nell'800 il Giappone riuscì a riformare il proprio sistema feudale, diventare una nazione moderna e potente, industrializzata, pur mantenendo le proprie strutture politiche e sociali. E questo la Cina imperiale non riuscì. E nel 1911 ci fu la rivoluzione guidata al Kuomintang che provò a dare un'altra risposta alla domanda di come diventare moderni e come diventare potenti. L'inizio del Novecento ovviamente è l'epoca degli stati nazionali. Quindi giustamente Sun Yat-sen e dopo di lui Chiang Kai-shek davano a questo quesito una risposta molto diversa. La Cina per diventare una potenza, per diventare uno stato moderno deve essere un paese che è uno stato-nazione. La Cina ancora oggi è composta da decine e decine di etnie. Anche esistono profondissime differenze regionali tra tutte le province cinesi. All'inizio del secolo scorso il motore che doveva essere la forza della propulsione verso la modernità i nazionalisti l'avevano individuato proprio nell'idea di creare una coscienza nazionale da creare una certa omogeneità interna con cui confrontare le potenze straniere. Poi ovviamente anche questo è un progetto che è fallito ed è arrivata la volta del maoismo del maoismo quindi dell'internazionale socialista e della modernizzazione attraverso i piani quinquennali. Anche questa ovviamente non mi dilungo sui fallimenti di quell'era. Dopodiché arriviamo all'epoca di Deng Deng Xiaoping in quella iniziata delle riforme delle riforme dell'apertura secondo cui la Cina c'è la celebre frase di Deng secondo cui la Cina deve aspettare il suo tempo e nascondere le proprie forze i propri punti di forza e questo approccio è in qualche modo un'abdicazione si può potremmo dire di Pechino alla propria volontà di farsi potenza internazionale e capace di imporre un'agenda nei consessi delle Nazioni Unite o dove altro poteva essere però questo è quello che ha fatto questo periodo della storia cinese è quello di dare una risposta a come la Cina può diventare moderna perché attraverso le riforme attraverso le liberalizzazioni economiche e non politiche della Cina in quel periodo la Cina effettivamente ha trovato una quadra e come si trattava Simone prima ha tolto dalla povertà centinaia e centinaia di milioni di cinesi che oggi possono permettersi di essere un'azione a meglio reddito e che continua a crescere la risposta alla seconda domanda però è quella che effettivamente noi siamo qua per rispondere cioè una volta che la Cina adesso è moderna perché anche se noi pensiamo il nostro modo di interagire con internet è profondamente influenzato da quello che succede in Cina TikTok tutti l'e-commerce e non mi sto dilungare sicuramente Lucrezia può parlare molto di più da questo punto di vista di me ma il nostro modo la nostra modernità è arrivata a essere addirittura influenzata dalla modernità cinese quindi la Cina oggi è un paese che è moderno ora ed è iniziato ad essere potente la domanda per la Cina oggi non è più come diventare moderni e come diventare potenti è cosa fare di questa potenza che abbiamo acquistato e in che direzione indirezzare questa modernità che noi siamo arrivati a creare oggi ecco a questa risposta è ovviamente ancora difficile perché come dice il titolo di questo festival siamo a una soglia sappiamo cosa ci siamo lasciati alle spalle non sappiamo ancora cosa verrà dopo certo Xi Jinping ci ha fatto capire un po' di cose in quasi dieci anni di guida della Cina in che direzione vuole portare Pechino e in che direzione vuole portare la Cina e l'ordine internazionale però anche qui se abbiamo molti indizi su quale sia il progetto politico della Cina dei prossimi decenni esistono dei segnali su cosa Pechino voglia fare in ambito internazionale ma è molto più sfumato è molto ci sono ovviamente c'è la Belt and Road Initiative quest'anno è stato lanciato il Global Security la Global Security Initiative forse ricordo male l'acronimo ma sono ancora delle iniziative a mio parere che da un certo punto si collegano all'ordine internazionale esistente cercando in qualche modo di sostenerlo e suffragarlo d'altra parte però sono delle iniziative che mi sembrano molto spot cioè nel momento in cui alla Cina prendiamo esempio la Via della Seta nel 2013 quando Xi Jinping ad Astana annuncia la creazione di annuncia l'inizio di questo piano mastodontico di investimenti la Banca Asiatica per gli investimenti stimava che ci fosse un deficit di almeno mille miliardi di investimenti infrastrutture in Asia quindi la Cina andava semplicemente a tappare un buco che le le istituzioni dell'ordine globale esistente riconoscevano come una disfunzione per il funzionamento dell'ordine quindi Pechino per ora non ha articolato una visione alternativa di quello che secondo lei debba essere l'ordine globale e sul futuro insomma io per ora non mi sento ancora di esprimere opinioni il punto di domanda resta insomma per me rimane sì io invece volevo partire proprio togliendolo il punto di domanda ci sta togliamolo buongiorno a tutte e tutti grazie ragazzi di iconografia grazie Sebastian per l'introduzione appunto abbiamo chiamato questo incontro il secolo cosa c'è oltre la soglia il secolo asiatico punto di domanda io invece il punto di domanda lo toglierei perché siamo già dentro al secolo asiatico questo è già il secolo asiatico lo è perché stiamo parlando di posti che prima non raccontavamo banalmente quindi abbiamo menzionato anche solo nei vostri interventi Samarkand il Xinjiang il piccolo dragone il Vietnam posti di cui fino a poco tempo fa se non per figure come Tiziano Terzani per esempio non sapevamo molto l'Asia adesso è molto più accessibile e l'Occidente è molto più accessibile per l'Asia la domanda la vera domanda è questo secolo asiatico sarà a guida cinese dal canto mio io ho sempre trovato che una delle caratteristiche principali del partito comunista cinese sia la sua determinazione nell'autoconservarsi quindi la risposta è dipende che cosa gli converrà in questo momento fare speculazioni sul fatto che la Cina Simone l'ha detto bene voglia esportare il proprio modello sono infondate perché da quello che vediamo casomai esiste questo sistema con paesi satelliti che casomai guardano alla Cina perché sta mostrando un esempio di qualcosa di successo qualcosa che gli Stati Uniti per decadenza economica e morale per quello che vede la Cina non riescono più a offrire un'altra cosa che vorrei dire che per influenzare perché tu parli di un bivio quindi si tratta non solo di influenza politica ma anche di influenza culturale cosa che gli Stati Uniti hanno avuto per moltissimo tempo sull'Europa e sul resto del mondo che ancora hanno e quindi se utilizziamo questa parola magica che ad alcuni accademici non piace del soft power dobbiamo parlare necessariamente anche di un'influenza di tipo culturale del mondo dell'intrattenimento di libri di filosofie la Cina in questo momento questo soft power non ce l'ha se non con alcuni paesi limitrofi non ce l'ha nei confronti dell'Occidente e dell'Europa quindi attenzione a fare una valutazione di un paese che sicuramente negli ultimi 30 anni ha fatto passi da gigante sicuramente sta dando molto da sta dando filo da torcere agli Stati Uniti e da cui gli altri paesi asiatici hanno da imparare però sempre ridimensionando insomma quello che è il ruolo della Cina e quello che è invece la sua volontà sul piano internazionale diverso è parlare della posizione scomoda e imbarazzante nella quale la Repubblica Popolare Cinesi si trova in questo momento perché sempre per nutrire questo spirito di autoconservazione lo scenario migliore per Pechino sarebbe stato che le cose fossero rimaste come erano prima quindi stabilità stabilità cosa dimostrata peraltro Simone menzionava l'Afghanistan da quanto rapida è stata la risoluzione della questione afghana lo scorso anno per Pechino ha posto così morto un papa se ne fa un altro pur che stia calmo e non mi rovini i piani perché io ho da pensare a me e questo mi porta a un altro ragionamento che riguarda il fatto che noi possiamo parlare tanto del ruolo che la Cina sta cercando di guadagnarsi e di mantenere sul piano internazionale ma dobbiamo ricordare sempre che esiste un piano interno a volte molto più importante di quello internazionale sia per la Cina in generale sia per un leader come Xi Jinping che ha fatto comunque della sua immagine una figura importante all'interno della Repubblica Popolare Cinese con questo voglio dire che al netto delle crisi esterne alla Cina in questo momento storico quelle interne legate all'altro evento gigante che quindi la pandemia hanno la precedenza e come conseguenza la retorica antinato la retorica anti Stati Uniti serve invece da collante emotivo di coesione per chetare una serie di questioni interne e riunire i cittadini cinesi contro vogliamo chiamarlo un nemico comune contro qualcuno che in qualche modo sta infastidendo la Cina e sta andando a dirgli voi come vi permettete come diceva Simone prima come vi permettete voi di criticare noi che finora ce l'abbiamo fatta quindi per quanto mi riguarda siamo all'interno del secolo asiatico la posizione della Cina in questo momento è sicuramente scomoda però dobbiamo ricordarci di ridimensionare il ruolo che ha sul piano internazionale perché anche come diceva Guido alcune delle iniziative intraprese dal partito comunista cinese negli ultimi anni non è detto che poi trovino un'applicazione diretta e questo si ricollega a quello che diceva all'inizio della natura cangiante e la capacità di adattarsi del partito comunista cinese poi si traduce anche nel fatto che se una strategia non funziona viene cambiata se una policy non va viene modificata pro e contro di questo sistema significa che appunto tutto quello che viene da Pechino dobbiamo prenderlo con le pinze concludo dicendo un'ultima cosa Pechino la Cina fa parte di una serie di organizzazioni internazionali ma una cosa che sarebbe il caso di introdurre esistono accademici che lo stanno facendo è l'analisi delle parole le parole sono importanti diceva Moretti lo sono davvero sul piano internazionale perché quando stiamo dialogando con la Cina usiamo le stesse parole ma non ci poniamo non gli diamo lo stesso significato e quindi diritti umani per noi significa una cosa per la Cina significa un'altra diritto di parola in Cina si trasforma in privilegio di parola se noi vogliamo dare per scontato che il secolo asiatico è qui e potrebbe essere a guida cinese quello che dobbiamo davvero chiederci è non che cosa vuole Pechino ma come facciamo a dialogare con Pechino senza che si rompano i ponti come invece è successo con la Russia grazie mi sembra che siate abbastanza d'accordo insomma sulla risposta a questa domanda che appunto non è facile un po' da sfumare tu Lucrezia giustamente hai detto della volontà di autoconservazione del partito comunista cinese che quindi un po' appunto quello che farà e come si muoverà la Cina dipende da che cosa converrà il partito e qui mi offro il gancio per tornare a Simone dato che tu stai seguendo i passi che stanno portando al congresso che è l'appuntamento più importante per il partito e ci sta arrivando dopo appunto un periodo non facile per la Cina soprattutto per la pandemia e poi per la guerra e con una serie di voci che si sono inseguite di possibili insidie per la leadership di Xi Jinping so che tu non sei d'accordo che pensi invece che sia stabile al suo posto però te lo faccio dire con le tue parole così ci spieghi un po' adesso un po' di rock and roll diciamo allora sì allora il congresso del partito comunista è il momento più alto diciamo della politica ovviamente cinese tanto il congresso arriva ogni cinque anni e in realtà nei giorni scorsi tra l'altro proprio anche per la newsletter ho sentito Renata Pisu che vabbè è una figura importante per me e credo per molti che seguono la Cina e abbiamo convenuto diciamo un po' con la stessa abbiamo la stessa impressione cioè mi ricordo il primo congresso che ho vissuto in Cina era nel 2007 e quasi non me ne accorgevo che c'era il congresso cioè non era una cosa così fomentata e fomentante come lo è stato dal 2012 in avanti nel 2007 in realtà tra l'altro sono andato a rivedermi tutti gli articoli che uscirono dopo il congresso nel 2007 era un cosiddetto congresso di transizione cioè c'era Fujintao che avrebbe avrebbe fatto gli altri cinque anni e però vennero inseriti diciamo l'elemento di novità era che vennero inseriti all'interno del comitato permanente del politburo diciamo faccio un minimo di Wikipedia cioè c'è il segretario generale il comitato permanente del politburo politburo comitato centrale ok quindi adesso sono sette venticinque più o meno duecento diciamo tra membri permanenti e membri che si alternano nel quindi nel cuore diciamo del sistema politico cinese vennero inseriti due persone che sono Xi Jinping e Li Keqiang e all'epoca si diceva che sarebbero stati loro a contendersi diciamo no poi la volata per essere nominati praticamente numeri uno numero uno nel 2012 questo perché perché dopo la tragedia la tragica successione diciamo a Mao che venne ottenuta da Deng Xiaoping dopo tutta una serie di colpi di mano anche del vecchio Deng perché in realtà Mao indicò Hua Guofeng come suo successore e che però non si dimostrò molto all'altezza rispetto a quelli che erano i vecchi diciamo del partito quindi Deng Xiaoping ha preso il potere e in realtà anche se ci sono tutta una serie di disquisizioni storiche al riguardo Deng che pure governò con lo stesso in realtà autoritarismo diciamo se vogliamo di Mao quantomeno sul partito basti pensare agli eventi del 1989 decise tutto lui anche se non aveva alcun ruolo in realtà istituzionale si preoccupò diciamo di garantire una successione pacifica quantomeno concordata stabilendo tutta una serie di norme di regole ad esempio il limite del doppio mandato per la presidenza della repubblica attenzione 5 stelle si ma attenzione perché adesso Xi Jinping ha tolto questo limite di mandato per la presidenza della repubblica ma non c'è alcun limite di mandato per il segretario del partito che è il vero capo della Cina che è la stessa persona tra l'altro e fu Jiang Zemin diciamo a prendere tutte e tre le cariche presidente della repubblica segretario del partito comunista e capo delle forze armate che forse è la carica più importante che detiene il numero uno tant'è che Jiang Zemin quando arriva a Hu Jintao nel 2002 non gli dà la carica di capo delle forze armate perché dice ma questi Hu Jintao è la prima generazione dei nati dopo la rivoluzione quindi non erano rivoluzionari quindi Jiang Zemin dice che questi non mi convincono non sono vecchi rivoluzionari aspettiamo ancora un po' gliela data dopo nel 2007 si diceva Li Keqiang faceva parte della cosiddetta fazione della Lega della Gioventù Comunista cioè la primavera del partito comunista la cantera il settore giovanile che ha una sembianza diciamo di burocrati per quanto molto attenti alle questioni diciamo più sociali Xi Jinping invece apparteneva alla cosiddetta fazione dei principini che in realtà poi una fazione non è perché si odiano pure tra di loro tant'è che Xi Jinping ha fatto i secchi parecchi nel corso del suo decennio e comunque il Financial Times New York Times Wall Street Journal tutti d'accordo nel dire è lui l'uomo che ha amato di più dalle imprese private straniere è lui l'uomo delle riforme è il Gorbachev cinese o il Gorbachev cinese nel senso che ci abbiamo beccato tutti a sta cosa nel senso che tutti abbiamo cominciato a scrivere sì sì è un riformatore sicuramente vedremo come cambierà la Cina la soglia all'epoca era se Xi Jinping in effetti perché? perché durante il decennio di Hu Jintao si respirava in Cina un'area veramente di apertura nessuno presupponeva che la Cina si sarebbe trasformata in una democrazia perché chiaramente è compatibile con il fatto che ci sia il partito comunista cinese ma si viveva veramente un'atmosfera di cambiamento di parziale apertura anche per quanto riguarda ad esempio la libertà di espressione ma soprattutto certe riflessioni adesso scherzando con alcuni reduci dalla Cina di quel periodo diciamo che rispetto alla Cina di Xi Jinping quella di Hu Jintao era una specie di Woodstock immaginatevi come l'abbiamo presa bene diciamo la chiusura a cui Xi Jinping ha portato un po' tutto fatto sta che nel 2000 tutti dicevano che Xi Jinping sarebbe stato un riformatore per il suo padre in qualche modo lo fu appoggiò le riforme di Deng Xiaoping ma era un mondo completamente diverso perché le categorie politiche applicate all'interno del partito comunista arrivavano dalla rivoluzione culturale un altro mondo rispetto a quello ovviamente di cui la Cina della Cina di oggi fatto sta che nel 2008 Hu Jintao mette come vice capo della commissione militare Xi Jinping e lì cioè cliffhanger ecco è Xi Jinping quindi è lui che sarà il numero uno e quindi nel 2018 quando arriva il diciottesimo nel 2012 scusate quando arriva il diciottesimo congresso del partito lo sheba da non si parlava d'altro in Cina improvvisamente si è capito che stava succedendo qualcosa la prima il primo grande cambiamento è stato il ritorno della politica da parte di Xi Jinping all'interno diciamo del contesto cinese che fino a poco prima era proprio gestione dell'economia tant'è che Xi Jinping poi nel 2012 mette Wang Huning all'interno del comitato permanente che è un teorico un ideologo quello che in teoria è stato lo spin doctor di Jiang Zemin di Hu Jintao e di Xi Jinping si dice che sia sua la teoria delle tre rappresentanze proprio il naming proprio un copywriter praticamente in qualche modo oltre che teorico quindi il diciottesimo congresso improvvisamente ha riportato l'attenzione sul partito comunista cinese che sinceramente fino a qualche tempo prima anche parlando con i cinesi cioè nessuno ne voleva nessuno parlava in realtà di politica sì qualcuno se ne fregava altri dicono sì vabbè ma chi se ne frega stanno là perché effettivamente diciamo e questo anche quando qua in Italia sentiamo parlare dittatura maledetti genocidi assassini in realtà la percezione che si ha vivendo in Cina è che sì sappiamo c'è un partito unico sappiamo la violenza con la quale diciamo il partito e lo stato cinese si comportano nei confronti di chi mette in discussione la centralità del partito comunista quelli che chiamiamo i dissidenti che tra l'altro poi abbiamo una visione dei dissidenti anche molto parziale qua da noi nel senso che sembrano io ho fatto un passato nei centri sociali proprio qua a Milano e a volte leggendo all'epoca i giornali italiani parlavano di dissidenti cinesi sembrava di sentire parlare di centri sociali ma non è così nel senso che moltissimi dissidenti in realtà non mettono neanche loro più di tanto in discussione la centralità del partito comunista chiedono anche anzi che sia il partito a risolvere tutta una serie di cose che vedono ma al di là di questo non si vive in una situazione nella quale si percepisce uno stato di polizia per dire diverso è oggi con quello che abbiamo visto a Shanghai molte persone probabilmente hanno compreso invece con il controllo dei corpi con l'obbligo di stare in casa detenuti di fatto in casa o nei centri covid si è percepita di più l'autoritarismo proprio attraverso diciamo la biopolitica nel senso che hai percepito che qualcuno qualcosa sei in un sistema nel quale non puoi dire di no ad una decisione che viene presa dall'altro fatto sta che arriva finalmente Xi Jinping tutti ci chiediamo chissà nessuno sapeva niente ci chiediamo che cos'è Xi Jinping finché Xi Jinping dà presto diciamo la brivia tutta una serie di questioni di decisioni di scelte che ci fanno capire che saremmo stati di fronte a una leadership molto forte e anche qua l'uomo solo al comando non è vero ed è questa la grande differenza ad esempio tra la Cina e la Russia Putin probabilmente è un uomo al comando è un uomo che è rimasto quasi anche solo al comando più che un uomo solo nel senso solitario è più una sensazione di solitudine probabilmente quella che ha adesso Putin perché il suo cerchio più vicino si è via via sfilacciato ma Xi Jinping è l'espressione invece del partito comunista che in un momento vi ricordate prima quando parlavamo del 2008 la percezione della debolezza occidentale ma c'è anche la percezione in Cina e lo ha ribadito ieri Xi Jinping proprio c'è anche la percezione di minaccia che arriva dall'esterno cioè la percezione la minaccia delle cosiddette rivoluzioni colorate cioè la leadership del partito comunista vedendo quello che poi sarebbe successo con le primavere arabe ma poi anche con l'Ucraina eccetera ha paura sostanzialmente di tentativi che arrivano da parte dall'esterno è così che ha letto ad esempio Hong Kong ma l'essere così perfino già tiene a men nel senso che la giustificazione poi ufficiale fu quella di essere diciamo stati come dire spinti da forze esterne per mettere in discussione il sistema del partito comunista e della Cina socialista e allora arriva una scelta diciamo di forte leadership una scelta di una leadership capace di sigillare praticamente il paese e casualmente poi è arrivato il covid che ha permesso quasi diciamo di giustificare anche di avere una scusa ottima per chiudere il paese perché in effetti oggi in Cina non ci si può andare non rilasciano i visti ci può andare solo chi ci vive o chi va lì per lavoro è un paese che si sta richiudendo perché da un lato ha meno interesse a interagire con l'esterno presumibilmente dall'altro sente proprio il bisogno diciamo di dover serrare le file ed ecco quindi la leadership di Xi Jinping che si riverbra su tutta una serie di decisioni interne con anche la chiusura di un dibattito che in realtà c'era e con questa questione della proposizione esterna che abbiamo visto prima e arriviamo a oggi Xi Jinping appunto ha interrotto ha cambiato la norma costituzionale ha fatto mettere in uno statuto del partito comunista il suo pensiero per il socialismo di una nuova era è stato definito nucleo è il presidente di qualsiasi organo o commissione all'interno del partito ha centrato indubbiamente il potere ha attivato anche tutta una serie di questioni legate a un culto della personalità piuttosto spiccato come i suoi corsi all'università alla questione dei libri a un diciamo che prima del covid si riteneva che comunque avesse un dominio completamente totale tanto che ci si aspetta e ci si aspettava già all'epoca che questo congresso avrebbe cambiato poco in realtà cioè avrebbe di nuovo preso tutto il banco Xi Jinping con la crisi economica dovuta al covid dovuta anche alla guerra in Ucraina perché naturalmente l'aumento delle materie prime per un paese che fa delle esportazioni ancora a una sua forza implica tutta una serie di problematiche con la crisi economica anche interna è venuta fuori la figura di Li Keqiang che in un paio di occasioni ha il premier che in un paio di occasioni è sembrato diciamo insomma velatamente criticare in realtà l'ottimismo espresso da Xi Jinping secondo me in realtà non c'è una vera opposizione all'interno del partito di Xi Jinping tra l'altro ricordiamo come diceva Lucrezia il partito comunista pensa principalmente alla propria autoconservazione quindi anche nel momento in cui ci sono delle legnate terribili all'interno perché ci sono degli scontri molto forti nessuno però diciamo supera certi confini che potrebbero mettere in discussione effettivamente la tenuta del partito quindi il 16 ottobre presumibilmente quello che ci aspettiamo è che Xi Jinping potrebbe tenere tutte e tre le cariche se ci sarà un successore non lo so perché se verrà indicato perché quello che ha fatto poi Xi Jinping è stato non indicare diciamo una sua successione neanche lontana nel senso che Xi Jinping è la cosiddetta quinta generazione dei leader cinesi che le contano proprio Mao il primo Deng il secondo Zhang il quarto Zhang Zemin il terzo Hu Jintao il quarto Xi Jinping il quinto il sesto la sesta generazione al momento è stata bloccata ci sarà un ricambio generazionale questa è la cosa secondo me più interessante da vedere perché entreranno ci sarà un turnover molto alto perché per limiti d'età se ne andranno via molti entreranno quelli nati negli anni 60 allora lì sarà interessante capire come la leadership di Xi Jinping riuscirà a gestire dei funzionari più giovani che quindi non hanno vissuto la rivoluzione culturale ma che sono cresciuti con la Cina delle riforme delle aperture che quindi hanno probabilmente anche altri approcci a tutta una serie di questioni e vedremo si giocherà probabilmente in questo senso la partita sul successore io pensavo in effetti dicevo chissà se lo nomina nell'ultima newsletter ho intervistato Fasulo che mi ha detto una cosa però Filippo Fasulo che è un analista dell'ispi che mi ha detto però una cosa interessante lui mi ha detto ma se indica un suo successore diciamo in qualche modo si mette un po' i bastoni tra le ruote da sole perché infatti e chiudo ve lo giuro quando quando lui quando Hu Jintao mette Xi Jinping all'interno del comitato permanente diventa un'altra zoppa cioè gli ultimi cinque anni suoi sono vabbè stai lì tu ma tanto tra un po' chiediamo già chi arriva dopo esatto e quindi presumibilmente potrebbe anche non esserci nessuna indicazione per indebolire una leadership che deve rimanere forti visto tutti i casini che dovrà gestire perdonatemi l'allunghettino un po' di fatto un po' di storia io prima di passare a un po' di domande dal pubblico volevo fare altre due domande a Lucrezia Guido e partirei da Lucrezia agganciandomi ad alcune cose che sono già emerse un po' nella discussione abbiamo parlato dell'elite di come si sta muovendo il partito vorrei invece parlare un po' della società cinese ovviamente detta così è un po' vaga tu per China Files segui i trend su Weibo sui social network cinesi e spesso analizzi come si muove la discussione sui social e sull'internet cinese prima parlavamo del soft power tu hai detto giustamente che la Cina ancora non ha un effettivo soft power come quello statunitense quindi non ha un'influenza sui costumi e la cultura popolare però comincia a intravedersi con l'enorme sviluppo tecnologico degli ultimi anni appunto Guido parlava dei social come il nostro stesso utilizzo di internet sia sempre più vicino quello cinese TikTok è l'esempio più banale che può venirci in mente ci sono anche influenze sulla fantascienza e in generale comincia a diffondersi anche al di fuori dei confini cinesi l'idea di un sogno cinese di questo China Dream iper tecnologico iper sviluppato che però confligge con l'altra faccia della medaglia che è quella della grande sorveglianza di massa e della censura che si esercita anche sui social network in particolare quindi volevo chiederti un po' cosa ne pensi di questa ambivalenza e come ti sembra che sia vissuta nel dibattito online cinese ho sbagliato la domanda no ci sono cercherò di essere breve domanda molto interessante ti ringrazio partiamo dal presupposto che sicuramente l'innovazione tecnologica che la Cina ha vissuto negli ultimi anni si sta riflettendo nel resto del mondo proprio in termini pratici quindi abbiamo una serie di innovazioni e tecnologie che la Cina è riuscita a sperimentare anche grazie al fatto che ha un pool di dati senza paragoni quindi uno dei motivi per cui la Repubblica Popolare Cinese è così forte sull'AI sull'intelligenza artificiale è perché riesce a far girare gli algoritmi su appunto i dati di un miliardo di persone attualmente la penetrazione internet in Cina è al 70% mentre gli utenti dei social sono sugli 800 milioni quindi quasi la totalità della popolazione cinese ha un cellulare è su internet costantemente però sappiamo che è un internet molto diverso c'è questa famosa frase di Clinton che disse che cercare di controllare l'internet è come cercare di controllare l'internet è un po' come provare ad attaccare la gelatina sul muro la Cina ce l'ha fatta ce l'ha fatta tramite la creazione di un sistema che combina un sistema di filtraggio ormai conosciuto dopo che l'ha nominato la rivista Wired The Great Wall sul Great Firewall sul gioco del Great Wall quindi la muraglia cinese c'è questa muraglia digitale che in realtà è un sistema di filtraggio che impedisce ai contenuti esterni di funzionare all'interno del territorio digitale della Repubblica Popolare Cinese quindi abbiamo questo unito a un grande apparato di censura censura proattiva e c'è un tipo di censura che è reattiva e una proattiva quindi una fatta a priori e una invece a posteriori c'è stato earlier this year c'era questa esibizione del Coacella diventata molto famosa sui social perché c'era Nicki Minaj col culo di fuori che si esibiva e i censori cinesi che mettevano le toppe in live cercando di seguire il diretano di Nicki Minaj quindi esiste anche esistono anche delle figure che di mestiere fanno questo censurano i contenuti che arrivano su internet a come fa arrivare il Coacella quando prima vi ho detto che esiste questa muraglia digitale la cosa per me affascinante assolutamente affascinante della Cina è che per il momento esistono ancora delle zone grigie esistono ancora dei patti non scritti dove il VPN la VPN il virtual private network è quello che si utilizza per bypassare questi controlli fare finta che il nostro device stia utilizzando il server di un altro paese quindi ti consente dalla Cina di avere accesso a applicazioni come Instagram Facebook altrimenti sarebbero proibite e non funzionerebbero il VPN più famoso e più utilizzato in Cina è di produzione cinese io mi ricordo che quando l'ho scoperto mi sono sentita una scema esattamente quindi esiste questo accordo per cui tu va bene puoi andare su Instagram a mettere la foto del tuo pao zai se vuoi affinché non lo utilizzi per attivismo sociale e qui appunto ci ricolleghiamo a quello che diceva Simone prima riguardo alla primavera araba qualcuno aveva pensato che questo movimento si sarebbe poi esteso anche in Asia in Cina in particolare avrebbe spinto gli utenti della Repubblica Popolare Cinese a utilizzare i social in chiave politica quello che abbiamo visto invece quello che vediamo oggi è che nonostante la sorveglianza nonostante il controllo l'utente medio cinese utilizza i social per farsi la foto del piatto di quello che è andato a mangiare quindi questa politicizzazione di tutto il pool di utenti cinese a volte porta a delle considerazioni errate su quello che vuole la cittadinanza cinese su quello che vuole il popolo cinese quindi sicuramente la Cina è surveillance state è uno stato dove la sorveglianza è massima dove anche solo a livello di telecamere è uno dei paesi che ne conta di più al mondo però quando invece guardiamo alla sfera social c'è ancora tanta creatività c'è ancora tanto spazio e margine di movimento che si sta restringendo però perché la cosa è che negli ultimi anni sicuramente la leadership di Xi Jinping ha fatto sentire la propria voce anche su questioni di tipo morale e quindi abbiamo visto negli ultimi ma stiamo parlando negli ultimi due tre anni e quindi è scoppiato tutto anche in seno alla pandemia un controllo da parte delle autorità sul tipo di contenuti che vengono diffusi quindi riusciamo a capire il partito comunista cinese capisce che il cittadino medio cinese utilizza il cellulare per una media di 8-9 ore al giorno 8-9 ok quindi dobbiamo esserci anche noi dobbiamo capire che cosa si dice dobbiamo capire quali sono i contenuti che vengono diffusi negli ultimi due anni abbiamo visto un crackdown di tipo educativo da parte del partito comunista cinese che si sta ponendo un po' come se fosse l'influencer preferito degli utenti social ok quindi da lì un crackdown sulle celebrities che non pagano le tasse la prima era stata Fan Bingbing e poi da lì via dicendo tutti quanti i calciatori non devono esporre i tatuaggi un grande crackdown sui contenuti considerati effemminati quindi un tipo di bellezza che circolava sui social soprattutto su Doin la madre di TikTok che piaceva ai giovani ma il partito è intervenuto dicendo questo tipo di contenuti non dovrebbe essere prioritario prioritario il tutto corroborato da un controllo di tipo tecnico e qui secondo me sta la genialità dove il partito comunista ha implementato una serie di normative regolamentazioni nuove in ambito tecnologico di cui la mia preferita è la legge sugli algoritmi algoritmi che ormai determinano quello che guardiamo quello che ascoltiamo quello che ci viene proposto di comprare pensate se con una legge che tecnicamente impone da grandi diritti agli utenti prima di tutto quindi cerca di proteggerli da questo meccanismo di profitto delle piattaforme digitali che sui nostri dati sulle piattaforme social ci marciano però allo stesso tempo pensate che cosa vuol dire per avere dei social con un'istituzione governativa che potenzialmente può decidere l'ordine dei nostri contenuti quindi io non mi ritroverò più gattini e corsi di palestra ma improvvisamente un tipo di informazione che più si addice a quella che è la linea del partito quindi da quello che sto osservando io anche su social come Weibo che facciamoci caso molto spesso operano un'autocensura cioè un tipo di censura che arriva dal partito sicuramente da direttive governative ma poi c'è una grande parte che è interna alle piattaforme piattaforme che appunto lucrano sull'utilizzo degli utenti delle stesse e che quindi per prevenire rogne con il governo a volte hanno proprio un dipartimento di rimozione o moderazione dei contenuti loro esistono poi delle forme di di dissenso all'interno dei social che io trovo siano appunto la parte più creativa perché più l'ambiente e parlo di Weibo Weibo è sostanzialmente il twitter cinese è una sorta di twitter misto facebook più vengono controllate le informazioni contenuti all'interno di Weibo più gli utenti cinesi trovano modi creativi per bypassare la censura per bypassare i controlli non parliamo solo di censura quindi prima abbiamo detto il VPN sui social invece la lingua cinese si presta benissimo a dei giochi di omofonia per cui con stesso suono ma diverso carattere io posso dire la stessa cosa e quindi il mio carattere non viene censurato la mia parola non viene censurata esistono questi tipi di quindi a certo punto qualche anno fa su Weibo era pieno di granchi di fiume e lama dell'erba ok anche chiamare il poll ci sono tutti questi inside joke che gli utenti creano tra di loro che rimangono un modo per comunicare flash forward anzi ormai flashback quando arriva la pandemia si creano dei problemi a livello sociale Shanghai in lockdown adesso Chengdu arrivano queste immagini di persone bloccate in quarantena arriva un terremoto a Chengdu nel Sichuan e ci sono video di persone che non riescono e non possono uscire di casa perché comunque c'è il lockdown il sentimento popolare sicuramente è cambiato in questi mesi in questi anni e lo spazio social è uno di quelli in cui il malcontento popolare si è riversato quindi ultimamente stiamo anche assistendo a un crackdown di tipo informativo perché il malcontento c'è e la gente lo espone proprio sui social social sui quali questi contenuti continuano ad arrivare concludo dicendo che le piattaforme digitali sicuramente stanno si stanno espandendo oltre i confini della repubblica popolare stanno avendo un'influenza anche su quelli che sono i nostri social però dobbiamo pensarla più in termini pratici tu Sebastian dicevi pensiamo a TikTok TikTok sicuramente è uno di quei social che ci arriva da by dance quindi dell'invenzione cinese però non facciamo questa sovrapposizione per cui l'innovazione tecnologica una volta arrivata qua si porta con sé anche tutta una serie di dinamiche culturali grafiche anche l'internet cinese è RPC internet come lo chiama Susan Leong è molto diverso anche per grafico per contenuti noi prediligiamo un tipo di di stile minimal ok quindi dove i social sono molto puliti ci sono pochi colori le schermate hanno poco contenuto mentre i social cinesi sono il totale opposto cose in sovraimpressione sottotitoli in sovraimpressione pop up come se non ci fossero domani una delle cose che a me fa smattare più di tutti è il fatto che su ogni video in cui sta parlando qualcuno sotto c'è una musichetta allo stesso volume della persona che sta parlando a me che sta cosa fa uscire di testa eppure piace tanto ed è dimostrazione di come anche a livello qualitativo e non solo contenutistico i social in Cina la tecnologia in Cina nonostante i controlli abbiano abbia delle sue caratteristiche e questo perché adesso concludo giuro il mio rock and roll è finito il patto sociale tra stato e cittadini che trova spazio sulle piattaforme social in questo momento storico è ancora forte al netto del malcontento che molti stanno dimostrando a causa della pandemia questo patto sociale è ancora forte mi ricollego a quello che hai detto Simone all'inizio sul il fatto che adesso la Cina è riuscita a portare fuori dalla soglia della povertà un sacco di persone questo patto sociale secondo me è forte proprio anche in virtù del fatto che c'è fiducia che il partito mama knows best in questo caso the party knows best per il mio futuro adesso che siamo arrivati a una soglia di benestare comunque abbastanza salda rispetto invece a quello che c'è nel resto del mondo che cosa succederà quando il privilege of speech quindi il privilegio di parola si trasformerà in qualcos'altro che cosa succederà adesso che tutti in Cina bene o male stanno bene e si inizierà a volere delle libertà non solo di tipo economico ma ma oltre quello materiale ci sono ricordate lasciamo aperta questa domanda io provo a fare un'ultima domanda a te Guido invece spostando un po' il discorso ti chiedevo di essere breve ma mi rendo conto che sarà difficile perché ti faccio una domanda un po' un po' ampia esatto perché abbiamo parlato praticamente solo di Cina in realtà il titolo era il secolo asiatico e poi chiederti poi dimmi tu se la domanda è un po' fuori focus magari ci sono altri attori rilevanti in Asia che non stiamo considerando che non abbiamo considerato in questo discorso in particolare appunto il Giappone e la Corea del Sud che paradossalmente hanno più soft power penso la Corea del Sud molto più della Cina tendiamo però un po' a dimenticarci della loro presenza parlando dell'ascesa cinese e ci dimentichiamo anche che sono comunque invece allineati agli Stati Uniti vedo già che stai vuoi rispondermi quindi ti lascio la parola e la domanda è questa cioè come Corea del Sud e Giappone vivono questa ascesa cinese se provano a contenerla adattandosi certo grazie allora l'Asia è un paese è un continente di decine e milioni di persone quindi mi ricollego a quello che diceva prima Lucrezia sì è vero sarà il secolo asiatico questo qua in qualche modo nel senso che l'Asia avrà un peso determinante ma possiamo dire che il ventesimo secolo non l'è stato il ventesimo secolo è stato il periodo della decolonizzazione e l'Asia è stato uno dei protagonisti è stato il periodo della paura atomica e le due bombe atomiche sono state sganciate sul Giappone è il continente dove è iniziata e si è conclusa la seconda guerra mondiale dove è iniziata l'aggressione fascista all'ordine internazionale con l'annessione di fatto l'occupazione del Manchukuo da parte dell'esercito imperiale giapponese e certo Giappone è uno dei grandi paesi dell'Asia che rimane spesso ai margini perché di solito ne abbiamo due visioni molto diverse stereotipate c'è il Giappone dei treni che arrivano in orario e spaccano il secondo e poi c'è il Giappone dei manga di Harajuku delle stranezze ma il Giappone in realtà è estremamente complessa è estremamente complessa come lo è la Corea come lo è la Corea che è anche questa in realtà che abbiamo iniziato a conoscere molto molto più di recente ecco questi due paesi sono due paesi alleati degli Stati Uniti ma a differenza di Washington con la Cina sono costretti a conviverci in qualche modo perché la geografia gli impone di avere dei rapporti con la Cina gli impone di non poter fare semplicemente delle politiche che Washington invece si può permettere di fare ricordiamo nel 2017 ci fu un caso importantissimo che ci trasciniamo indietro fino ad oggi del TAD questo sistema di difesa antimissile statunitense che gli Stati Uniti chiesero alla Corea del Sud se voleva introdurre per proteggersi dalle provocazioni della Corea del Nord ecco questo io non sono un esperto di armi e di questioni militari ma il problema di questa politica statunitense e sudcoreana di introduzione di nuovi armamenti statunitensi in Corea era che il monitor e i radar degli Stati Uniti grazie al TAD riuscivano a vedere quello che succedeva anche all'interno della Cina in qualche modo e la reazione di Pechino in quel caso fu estremamente severa perché dal 2017 in poi correggimi se sbaglio ma non ci sono stati concerti di nessun gruppo K-pop in Cina i viaggi organizzati dalle agenzie del turismo cinese non vanno più a Seoul e nelle altre città sudcoreane e c'è stato ovviamente il boicottaggio di Lot che era un conglomerato industriale sudcoreano che aveva offerto di ospitare queste batterie antimissile da quel momento in poi dal 2017 in poi Seoul ha capito che non poteva permettersi di sposare la linea statunitense sulla Cina in tutto e per tutto ed è vero in qualche misura anche per il Giappone ricordiamo Shinzo Abe è stato un personaggio molto controverso per i rapporti con la Cina da un lato viene da una storia personale lui attraverso la sua famiglia paterna discende da uno di quei funzionari che occuparono il Manchukuo e lo gestirono quindi ha una figura completamente in visa a tutti i cinesi se non sbaglio Simone tutti ricordi quando è morto poco tempo fa in Cina qualcuno anche ha esultato ecco anche Shinzo Abe negli negli anni in cui è stato primo ministro del Giappone nonostante avesse delle politiche diciamo di faccia faccia con la Cina perché non era aperta ostilità non era aperta cooperazione ma anche Shinzo Abe quando si parlava di diritti umani in Xinjiang rimaneva molto calmo rimaneva molto calmo e non poteva permettersi di dire le stesse cose che dicevano i politici statunitensi a Washington perché appunto il Giappone è nella Cina uno dei propri primi parti commerciali e il mercato cinese è un mercato fondamentale per tutte le aziende giapponesi che nel mercato interno che ogni anno si ristringe di mezzo milione di persone hanno bisogno di vendere i propri prodotti e dove li vanno a vendere li vanno a vendere fondamentalmente se riescono in Cina quindi la realtà asiatica è estremamente complessa da questo punto di vista qua e anche il presunto allineamento delle democrazie è quello che all'inizio Simone diceva la retorica di Biden autocrazia contro democrazia spesso rimane un nobile intento che però alla prova dei fatti cade un po' corto perché banalmente anche solo il mese scorso negli Stati Uniti è stato approvato l'Inflation Reduction Act che è un provvedimento che spende decine centinaia scusate di miliardi di dollari e i sudcoreani sono arrabbiati neri perché questo provvedimento è una sorta di continuazione dell'America First fondamentalmente perché permette alle aziende che produrranno le auto elettriche che rivoluzioneranno in qualche modo il mercato dell'auto e il panorama industriale globale con le conseguenze politiche che questo comporta ecco questo Inflation Reduction Act prevede un sussidio per tutte quelle aziende che produrranno dei veicoli elettrici negli Stati Uniti per cui abbiamo Kia abbiamo Hyundai che sono due enormi attori del settore automotive che non hanno stabilimenti negli Stati Uniti e quindi non avranno accesso a questi sussidi e avranno uno svantaggio rispetto alla concorrenza decisamente molto importante i semiconduttori sono un altro un altro un altro campo dove il la presunta alleanza occidentale sulla tecnologia diventa problematica perché appunto queste settimane si sta parlando di CIP4 che dovrebbe essere un'alleanza tecnologica tra Giappone Corea del Sud Stati Uniti e Taiwan gli Stati Uniti dovrebbero portare al tavolo la proprietà intellettuale design la Corea del Sud e Taiwan dovrebbe portare al tavolo la capacità di fabbricare i semiconduttori il Giappone dovrebbe portare al tavolo la strumentazione tecnica per produrre effettivamente questi microchip ecco ci sono però dei vincoli ovviamente alla partecipazione a questo consesso tecnologico delle democrazie che apertamente non è indirizzato contro nessuno ma non ci vuole molto a capire qual è l'obiettivo di creare delle nuove catene del valore che escludano ovviamente Pechino ecco il problema ovviamente è che gran parte dei ricavi delle grandi aziende sudcoreane come Samsung derivano proprio dalle vendite in Cina e quindi questo per per i paesi dell'asio orientale per le democrazie dell'asio orientale è un problema di estremamente difficile soluzione accontentare l'alleato statunitense o effettivamente decidere secondo il portafoglio facciamo un giro di domande grazie intanto ringrazio per le risposte se avete delle domande visto che il tempo stringe un po' raccolgo gli interventi prendo 4-5 domande e poi facciamo rispondere una alla volta sì oppure se c'è qualcuna indirizzata qualcosa di breve abbiamo una domanda lì poi una qua grazie intanto buongiorno a tutti ciao Simone la mia domanda in questo caso penso che sia rivolta a chiunque voglia rispondere se con Xi Jinping abbiamo avuto qualcosa che non ci si aspettava perché diciamo che lui è stato inizialmente accolto come una persona un po' più diciamo ortodossa rispetto per esempio a Boxe Lai la sua diciamo le politiche che sono accorse in questi anni sono state opposte a quello che ci si aspettava prima da parte sua e alcuni accademici in particolare alcuni hanno sottolineato come la politica di Xi Jinping sia stato piuttosto un ritorno a una politica a un accentramento appunto come dicevi tu del ruolo della politica rispetto al ruolo dell'economia soprattutto nelle dinamiche interstatali però appunto è una riproposizione di quella ricetta che ha portato la Cina a un periodo di forte crisi sotto Mao e post Mao mentre un abbandono della via che invece ha portato al grande exploit cinese dopo le riforme di Deng quindi nonostante la retorica cinese in particolare del partito su doppia circolazione e prosperità comune il rischio non è che attuando queste politiche e in parte anche si vedono che ci sono stai grossi problemi finora sia dalla confrontazione diciamo forse con gli Stati Uniti che forse è arrivata prima di quanto la Cina non si potesse veramente permettere ma anche da un certo punto di vista da una chiusura ideologica interna non rischia di portare i risultati opposti cioè chiudere la Cina al mondo e privarla della ricchezza che ha avuto finora e della crescita che ha avuto finora portando questo sì un colpo effettivo alla credibilità presso la popolazione cinese dello stesso partito che non riesce più a consegnare quella prosperità comune che promette questa è la mia domanda appunto se non ci sia in realtà questa divergenza tra le intenzioni programmate e i risultati ottenuti grazie prendiamo un altro paio di domande buonasera io ho due domande molto brevi che riguardano i due elefanti nella stanza secondo me da un lato la questione Taiwan che non è stata citata qua e là per questioni microchip ma sembra abbastanza centrale specialmente nel rapporto tra Cina e Stati Uniti cosa accadrà se la Cina deciderà effettivamente di riprendersi quello che ritiene suo ma soprattutto avete parlato di secolo asiatico ma non è stata mai menzionata l'India che di conseguenza anche per un mero discorso demografico se non sbaglio correggetemi l'anno prossimo supererà a livello di popolazione quella cinese è tutto un mondo è un subcontinente che ha delle caratteristiche tutte proprie però insomma credo che volevo sapere la vostra opinione da esperti di Cina come vedete in India grazie prendo l'altro intervento c'è qualcun altro che vuole parlare allora prendiamo gli ultimi due ciao a tutti la mia domanda tendenzialmente è il secolo asiatico in un mondo che sta rovinandosi ambientalmente parlando nel collasso ambientale un secolo guidato da un paese che promette e si fa esempio di crescita economica legata a un mercato dei consumi di consumi sregolati di produzione e trasporto di merci sempre più grande sempre più presente non sarà un secolo estremamente breve mi viene mi sembra estremamente cioè non vedo non vedo come un modello nel senso che ci estinguiamo non vedo dove sia il guadagno in un secolo asiatico che produce e vuole produrre di più promette una crescita economica illimitata che è una promessa comunque falsa impossibile da sostenere come si pone la Cina se ha già iniziato a pensarci riguardo all'estinzione del mondo come lo conosciamo è l'impossibilità di abitarlo nel modo in cui siamo abituati a farlo negli ultimi 10.000 anni banalmente la desertificazione succede anche lì il mare si alza anche nella Cina che comunque è una bella fetta di geografica sul mare come si pone la Cina riguardo al fatto che se si continua a crescere comunque prima o poi diventerà inabitabile il nostro pianeta grazie allora faccio un breve riassunto delle domande mi dite ce ne sono altre due scusatemi la signora e un signore dipende da voi quanto siete veloci a rispondere allora no ce l'hai ok io volevo portare un attimo l'attenzione su due eventi che sono quelli più recenti pandemia e guerra sembra crollare un po' l'idea che il commercio internazionale possa essere uno strumento di controllo della conflittualità in qualche modo perché soprattutto la guerra evidenzia il fatto che il controllo di alcune risorse diventa centrale tutto questo richiamando appunto al ruolo dell'Asia che è la grande officina del mondo soprattutto per ciò che riguarda la produzione dei beni intermedi dei beni appunto delle parti e delle componenti e la centralità appunto di alcuni settori quelli dei semiconduttori l'energia tutto questo invece riporta il fatto che dal globale ci spostiamo al regionale e la Cina firma dei trattati di deep integration nell'area asiatica e quindi questo comporta una volontà di influenza forse regionale più che globale ma questo non allenta il fatto che le conflittualità siano là sotto il tappetto grazie e prendiamo l'ultimo intervento buongiorno a tutti quello che volevo chiedere era non so chi dei tre possa rispondermi però il rapporto tra il nostro paese e la Cina al di là poi di tutta la propaganda politica che si fa soprattutto in periodo di elezioni e in particolare se ci sono degli sviluppi per quanto riguarda progetti come la Via della Seta che in parte riguardano anche il nostro paese e insomma quali sono i rapporti ecco grazie a te distribuisco pane e pesci allora la prima domanda ditemi voi secondo me Simone volessi rispondere tu in sintesi sì ti ricordi perfetto sì molto breve la ricordi no faccio velocissimo il paradosso qual è quello che Xi Jinping arriva al potere dopo aver messo in carcere Bosilai che proponeva un modello economico con una forte presenza statale e anche con tutta una serie di diciamo cose che avevamo visto nel periodo maoista ti ricordi via la pubblicità commerciale della televisione i giovani mandati nelle campagne in realtà poi Xi Jinping ha fatto un po' la stessa cosa cioè nel senso che ha portato questo sì secondo me sta dando tutta una serie di problemi per questo anche Li Keqiang tutto sommato abbiamo pensato una sua posizione molto più importante perché comunque è a posto dei problemi veri però stiamo andando verso una autosufficienza diciamo della Cina da un punto di vista diciamo della produzione soprattutto ad esempio nel campo tecnologico e e quindi probabilmente diciamo che gli sforzi di Xi Jinping sono proprio atti diciamo a far sì che si crei sempre meno dipendenza dai mercati globali e quindi ovviamente anche le imprese private straniere hanno un altro peso in questo tipo di ragionamento però che debba andare a verifica è assolutamente vero e soprattutto che non stia dando probabilmente risultati sperati anche ma la stessa svolta sul mercato interno in questo momento è particolarmente farraginosa nel momento in cui soprattutto chiudi in casa milioni di persone quindi il problema economico è il problema numero uno post congresso molto più che quelli internazionali come abbiamo detto anche in precedenza comunque sono d'accordo con quello che hai detto Taiwan cosa succede se la Cina decide effettivamente un intervento militare Taiwan era vietata non ne parliamo non si può parlare di Taiwan e l'India invece come elefante nella stanza cosa succede non abbiamo gli strumenti per dirlo adesso perché noi ci basiamo sui fatti provando a fare giornalismo e non speculazioni sono d'accordo che siano stati in questa conversazione due elefanti infatti è la prima cosa che ho pensato appena abbiamo finito siamo riusciti a non toccare Taiwan ci è arrivato lui alla fine dicendo semiconduttori quella roba lì che forse è l'autocensura ci mette le casine perché Taiwan invece a livello di espressione di freedom of speech freedom of internet è il primo paese in Asia quindi proprio due mondi opposti con la Cina secolo asiatico passa necessariamente per Taiwan per la questione taiwanese per i claim di sovranità che Pechino ha nei confronti di Taipei questa è la seconda mi viene da dire posizione scomoda in cui la Cina è stata messa perché appunto come sapete il 2 agosto con la visita della speaker della camera degli Stati Uniti di Nancy Pelosi a Taipei Pechino si è vista ha dovuto reagire in qualche modo anche per rispondere ai nazionalisti che chiedevano un maggiore risponso quella linea di competenza per l'esercitazione attorno all'isola principale di Taiwan continua a essere messa in discussione ma i toni al momento si sono chetati l'India in realtà secondo me se davvero dovesse esserci uno scontro in questo secolo asiatico coinvolgerà Cina e India soprattutto anche alla luce dei rapporti che l'India ha con la Russia per ritornare al conflitto in Ucraina quindi secondo me più che la questione taiwanese che appunto al momento stiamo tutti guardando su China Files e anche sul manifesto e sui podcast di Cora abbiamo coperto grandemente il vero punto interrogativo di questo secolo asiatico in termini di conflitti io lo vedo invece sul confine cinese indiano il resto dell'Asia l'abbiamo menzionato un paio di volte e qui concludo invece ricade per menzionare quello che diceva la signora sotto l'area di competenza regionale di influenza regionale di Pechino questo sicuramente e si riallaccia qua anche il discorso dell'influenza tecnologica Pechino sta settando l'esempio non sta esportando il proprio modello però tutti i paesi dell'ASEAN bene o male anche in termini di normative per la censura per il controllo dell'informazione lo stanno emulando e anche l'India quindi anche il sud asiatico Guido vorrei aggiungere qualcosa su Taiwan e nel caso attaccati sulla crisi climatica se vuoi io volevo attaccarmi un attimo a quello che ha detto Simone per rispondere al signore là in fondo che Xi Jinping non opera diciamo in un vacuo lui ha un miliardo e 400 milioni di persone a cui rispondere e in Cina c'è effettivamente una domanda di politica cioè quando nel 2012 Xi Jinping è diventato segretario del partito una parte dei cinesi effettivamente voleva avere una Cina di cui sentirsi patrioticamente orgogliosi diciamo c'erano delle reali domande di giustizia sociale quindi di di rettificazione delle industrie tecnologiche c'era una domanda di come dire di risposta alla devastazione ambientale che 20-30 anni di riforme porte aperte avevano portato in Cina quindi quando Xi Jinping introduce categorie politiche al di sopra di quelle economiche sta facendo anche un danno a quello che ha permesso alla Cina di diventare una potenza ma sta anche rispondendo a delle istanze che provengono dalla società che il partito comunista si dichiara legittimato a governare capito e da qui mi collego alla domanda sul clima che non vedo più il ragazzo ma eccola in sostanza sì cioè allora no non moriremo tutti io non penso questa cosa onestamente beh li stavo esagerando anche io di interpretarla non penso che dicesse questo chiaro no ovviamente però ecco è ovviamente un problema molto sentito in Asia dove appunto ci sono stati decenni di crescita con standard di rispetto dell'ambiente abbastanza laschi diciamo però è appunto una delle cose su cui le nuove generazioni di politici stanno fondando la propria popolarità la propria azione politica in Cina ogni anno mettono giù tanti pannelli solari probabilmente quanti ne abbiamo qua in Europa stanno investendo sulle energie rinnovabili in modo prepotente Xi Jinping addirittura ha parlato di civilizzazione ecologica è una delle sue parole chiave non l'ha più usato ovviamente ma è una delle parole chiave con cui lui ha voluto marcare la propria la propria la propria leadership gli impegni che ha preso per la decarbonizzazione per diventare net zero nel 2000 entro il 2060 se voi guardate i grafici vedete le emissioni cinesi che vanno così e poi da quando loro dice di voler fare scendere le emissioni vanno giù letteralmente così secondo le previsioni matematiche di cosa dovrebbe fare la Cina per arrivare net zero nel 2060 idem in Giappone il Giappone sta investendo pesantemente nelle rinnovabili sono mi sembra qualcosa come il 20% di tutta l'energia elettrica consumata in Giappone proviene da solare ed eolico la Corea in questo momento stanno decidendo di puntare sul nucleare perché per loro il nucleare è una fonte rinnovabile per combattere il cambiamento climatico ma qui si aprono discorsi un po' interni anche nostri quindi non penso che mi addentrerò troppo oltretutto siamo veramente costretti a tagliare perché siamo in ritardo con il prossimo panel resta in evasa la sua domanda ma penso che se non state scappando potete magari parlarne giù dal palco io vi ringrazio davvero per l'attenzione è stato un discorso molto denso per il sabato pomeriggio grazie anche agli ospiti Simone Pieranni Alberto Casanova Lucrezia Goldin ricordo che al banchetto ci sono le copie di China Files vorrei far presentarmi parla di Taiwan esatto dice Lucrezia per chi potete andare e fermatevi per il prossimo panel con Dominic Leuser sulla crisi economica che viene cioè l'idea che dopo la soglia potrebbe esserci una prossima grande crisi economica con Dominic Leuser della Lonsno School of Economics e Alessandro Bonetti di Critica Economica grazie ancora